Ci sono due aspetti molto importanti. Il primo è che il rapporto con l'eccellenza nazionale permette alle nostre strutture di crescere. Per quanto abbiamo centri qualificati di eccellenza che già oggi sul piano nazionale hanno dei risultati e dei performance di assoluto rispetto, mettersi in rete con una delle più grandi eccellenze a livello nazionale nel campo dell'oncologia ginecologica è chiaro che offre una crescita significativa del sistema, dà l'opportunità di approcciare nuove tecniche e di poter essere sempre aggiornati. Dall'altro un miglior funzionamento perché attraverso questo scambio, attraverso questo rapporto è possibile anche che pazienti che oggi magari vanno a gemelli possano scoprire di poter essere trattate nella stessa misura, nella stessa qualità sul territorio e viceversa che vadano a gemelli quelle che solo lì sono in grado di gestire in maniera accurata. Alla fine cosa succede? Che al centro di tutto questo percorso c'è la donna, in questo caso paziente, che avrà la possibilità, grazie a un sistema che funziona, di potersi rivolgere a un centro che dà tutto quello che serve per la propria cura, potendolo fare nel territorio, che è chiaramente un grande vantaggio per la famiglia, per tutto quello che accade nella gestione della patologia, o di andare verso un centro altramente qualificato quando quello è il posto giusto dove andare. Una crescita reciproca del sistema fatta all'insegna della competenza e dell'umiltà, la competenza di fare le cose fatte bene, l'umiltà di indirizzare la persona verso il punto migliore per essere trattata.